Acqua alta da record a Venezia dove per la quinta volta dal 1872 nel mese di maggio ha toccato la soglia di 110 centimetri. Passi per il maltempo ma forse non tutti sanno che la vera colpa del fenomeno è di una particolare e rara coincidenza che ha innescato un autentico effetto domino. Luna, sole e terra risultano allineati, la forza di attrazione gravitazionale raddoppiata e questo innesca quella che in gergo si chiama marea delle sigizie, ovvero il momento in cui l'escursione tra l'alta e la bassa marea è al massimo livello. A questo si è unita anche la perturbazione che ha interessato soprattutto il nord Italia che a sua volta ha innescato nel medio adriatico un persistente vento di scirocco. Noi siamo venuti a Prato, praticamente siamo venuti qui per una visita ma non ci si aspettava una Venezia così con l'acqua. È una cosa veramente spettacolare, molto bella. È la nostra prima volta Venezia è luna di miele, non abbiamo mai visto una cosa del genere, molto romantico, molto bello. Insomma, pro o contro, suggestivo o fastidioso, il fenomeno fa parte ormai della tradizione. Basta sapersi attrezzare e poi Venezia è la città dell'amore e quindi un bacio battezzato dall'acqua della laguna diventa di colpo il top del romanticismo.